L'influenza è in agguato anche quest'anno. Proteggi te stesso e gli altri. La vaccinazione ti ripara dall'influenza. Anche una buona igiene aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Come lavarsi spesso le mani, coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, rimanere a casa quando ci si sente influenzati. Consulta il tuo medico.